ed eccoci ed eccoci siamo tornati sul canale YouTube e a farmi compagnia un volto noto del canale c'è Raffo ciao Raffo buonasera ciao ciao Giacomo ciao ai nostri ascoltatori e i nostri ospiti innanzitutto Raffo dobbiamo fare una premessa come tutti possono vedere sullo schermo c'è un esordio alla regia che tra l'altro oggi ci accompagnerà anche durante l'intervista Daniele lo conoscono chi ci ascolta di solito come presentatore come conduttore di Good Old Wave e niente ha deciso di fare questo piccolo suicidio personale diciamo così andando a prendere anche una parte della regia del nostro canale ma soprattutto soprattutto con noi ci sono Pietro e Filippo dei Cell Floor ciao ragazzi buonasera e grazie per essere con noi ciao grazie a voi grazie mille per l'invito allora ragazzi noi di solito naturalmente riceviamo il comunicato stampa quindi un pochino vi studiamo prima di portarvi sui nostri canali prima di decidere se portarvi sui nostri canali esatto abbiamo deciso che ciò che realizzate è di buon ascolto però chi vi ascolta magari può non conoscervi chi sono i Cell Floor e da dove vengono beh i Cell Floor sono un gruppo che esiste da un paio d'anni circa che è nato forse inizialmente con una specie di progetto covid nel senso che siamo il progetto nasce dall'unione in un certo senso di due band che dopo con il covid la prima ondata nel 2020 e hanno capito di non avere molto più senso di esistere che erano i Vasa e i La Pioggia Su due band del circuito Emo post-acor scriviamo Lombardo diciamo perché non siamo solo di Milano ma siamo due di Milano oggi presenti due di Como che si sono unite perché da qualcosa di nuovo in realtà appunto i membri fondatori sono io Pietro e Stin Luca che adesso non è presente Luca il nostro chitarrista e cantante principale e dalla sua mente vengono molte delle idee alla base dei pezzi su cui però alla fine lavoriamo sempre tutti e quattro adesso quando siamo in quattro come forse si capisce speriamo che si capisca appunto nei Cell Floor ci sono due correnti che sono quella più elettrica e quella più più elettronica e questo si capisce in un certo senso abbiamo cercato di renderlo anche nella tracklist del disco che ha le prime tre tracce più elettriche più Emo post-acor italiane e invece poi le altre tre che sono un po' più elettroniche un po' più come dire anche più dispersive nel senso secondo noi migliore del termine un po' più come dire respirano di più hanno più spazio appunto siamo un gruppo che sia elettrico che elettronico il disco di cui siamo molto onestamente molto fieri e molto orgogliosi è appena uscito e riassume quello che abbiamo fatto circa nell'ultimo anno diciamo che si chiama l'immagine che ho di me e che contiene appunto sei canzoni e che è stato preceduto da un singolo uscito circa un mese fa che si chiama Lavanda che canzone è e come mai è stata scelta come singolo? allora era una scelta di ragionare su un brano che di base non avevo mai scritto noi comunque come diceva Frippo arrivando da generi molto dritti a livello di battute di forza di cariche e tutto quanto ci serviva un brano che adesso leggermente più respiro un po' per scelta nostra un po' per voler provare qualcosa che fosse leggermente diverso a quello in cui fosse non dico la nostra comfort zone ma generalmente un progetto qualcosina che a livello musicale non avevo o non avevo ma semplicemente mai provato o che fosse complessivo di tutta la parte un pochettino mossa che la parte un pochettino più pensierosa che la parte elettronica come detto è il mio brano in cui sono completamente utilizzatori e ha delle caratteristiche simile e genere e per questo motivo abbiamo scelto quel brano lì che secondo me era quello che di rappresentarvi in alcune cose di più sembra quasi che da metà inizi la parte un po' più elettronica no? esatto esattamente la parte finale è tutta volutamente in cui il drone che c'è alla fine che è in tutto il brano anche se è più nascosto quindi diciamo forse quello che diceva Filippo prima di un album un po' più dritto nella prima parte un po' più elettronico nella seconda trova la sua cesura proprio in mezzo a questa canzone esattamente esattamente fuori onda ci domandavamo se è un album o se è un EP con sei tracce e io dicevo che anche il secondo album degli Stoogis Fan House ne ha poche ecco che anche lì a metà di una canzone entra il sax che resta nella seconda metà c'è una cesura, è un doppio parallelismo questo eh? wow, onorato sinceramente io li apprezzo tantissimo e sono estremamente onorato proprio con gli Stoogis no, ti chiedo un'altra cosa e poi rilascio di nuovo la parola a Giacomo visto che voi avete parlato di quest'album come di un concetto compatto e a me da boomer piace molto questa idea dell'album che rappresenta un pezzo della band e mi dispiace che un po' con la musica digitale si stia perdendo coi singoli rilasciati uno al mese questa compattezza musicalmente abbiamo un po' raccontato com'è poi ci direte anche dove gli ascoltatori lo possono trovare e se esiste anche sul supporto fisico a livello di testi l'ho percepito ascoltandolo una compattezza anche qui vogliamo parlare un pochino di cosa tratta? a livello di compattezza è quello perché parla del due facce delle stesse immagini l'immagine che io ho di me è l'immagine che voglio trasferire da due persone quindi ho l'immagine che io vedo di me stesso verso le altre persone che queste sono le grandi figure che si sono attraverso questo disco grano come per esempio Judoca che è il grano finale del disco parla di un'immagine che abbiamo visto di una persona fuori dalla situazione parla esattamente di quello che dice la ragazza che abbiamo visto uscendo dalle salaprove vestita da Injurogi fuori da un fuori seduto su un muret estremamente emo estremamente con qualsiasi immagine possibile è proprio quello e un po' noi ci siamo rivisti in quella figura lì perché dice ok cosa c'è successo? non sappiamo un po' lì di idee di cosa è successo con la casa lì aveva le scarpe addosso quindi non è stato quello che è successo di un momento riuscita e tal momento probabilmente aveva visto un momento paziente un momento difficile o un momento felice e in quell'immagine c'è stato un po' di rappresentazione di noi stessi che potrebbe essere sia un momento felice trasformato che è un'immagine che abbiamo noi trasferito all'interno di una persona che è la stessa immagine nostra questa è l'idea che ho bisogno di vedere nel disco e non si vede anche tutti gli altri brai non si vede in lavanda non si vede tantissimo in giardino in terraria scusami se non mi ricordo il disco o soprattutto come si chiama o soprattutto in storia di uomini e suoi cattoli che al di poi nel tel del nome lungo e bello completo parla proprio di questo parla proprio del voler rappresentare un'immagine che io ho di me ma che tu hai di me contemporaneamente questo doppio filo questo doppio filo rosso che si collega nel mio palazzo ed è un tema che mi piace perché abbiamo voluto analizzare all'interno del disco distaccandosi da quello che erano magari i singoli che abbiamo fatto prima come Recky come Gantt che invece parlano più semplicemente di separazione sì esatto cioè diciamo che il tema delle relazioni che spesso aiuta molto quando devi scrivere un test e tipo hai delle idee che sono un po' miste un po' un po' vaghe alla fine di cosa viviamo tutti noi esseri umani di relazioni quindi alla fine tutti parlano di relazioni e anche noi ne abbiamo in qualche modo sempre fatto però effettivamente una cosa di cui ci siamo resi conto dopo che stanno facendo con questo disco è che in qualche modo abbiamo anche forse spiegato in un certo senso almeno speriamo di starlo facendo e se non lo stiamo facendo va bene uguale che cosa effettivamente significa il nostro nome c'è un sacco che gente dice ma self-love cosa vuol dire in che senso questo qua non hanno capito che self-love non self-love quello è il passo iniziale e e in realtà posso dirti una cosa che vi ho cercato su Instagram e mi uscivano tutte diciamo delle ragazze appariscenti con il suggerimento self-love e no certo perché quando ci stavano dando un nome nel 2021 visto che alla fine veniamo un po' da quel panorama new gaze c'è i band tutte viola e rosa che alla fine per qualche motivo il nome è composto di due nomi tipo slow crash slow mess cold cave e death cult eccetera e noi vogliamo chiamarci self-lore poi ho detto che self-lore era un concetto proprio interessante perché alla fine il lore lo saprà chi c'è pazica ambienti nerd bio giochi tv film eccetera il lore è tipo quella narrazione che è un po' leggenda un po' realtà non sono dei dati sono tipo quindi alla fine il lore di te stesso è qualcosa che bene o male gli altri sanno di te comunque è una cosa che tu racconti di te gli altri raccontano di te ma non è che poi fa fa anche un po' scopa con il nome del vostro album se ci pensi infatti ma non l'abbiamo cercato questa cosa però ce ne siamo resi conto alla fine che se vuoi vedere la connessione ci sta bello c'è perché in effetti c'è ma se non la vedi fa bene lo stesso perché comunque pensiamo che sia abbastanza come dire relatable per tutti cioè niente mi aggiungo semplicemente quello che c'è fino adesso insomma allora io ho una domanda per quanto riguarda la banda visto io sono molto cattivo scherzi a parte però mi piace andare un pochino a punzecchiare gli ospiti vado a leggere quanto scritto sul comunicato stampa che abbiamo ricevuto per darvi un po' fastidio e c'è scritto che la banda il brano il secondo singolo poi perché il primo stato ragnateva dice il comunicato stampa che l'immaginario del brano fa parte di un concept più ampio presente in tutto il disco e dedicato alle conseguenze del diventare adulti in un ambiente non più a misura d'uomo in cui la percezione di sé è plasmata dalle tante storture presenti nella società contemporanea queste storture a me mi hanno un po' incuriosito quali sono le storture che che incontrate all'interno della società e quelle che avete voluto appunto affrontare all'interno del brano penso che il tipo di preghiate storture o comunque difficoltà a cui si fa riferimento in lavanda in particolare siano quelle che secondo me almeno noi tutti noi quattro abbiamo vissuto anche molte persone che conosciamo che sono noi cari hanno vissuto tra i 25 circa tra i 20 e i 30 anni quel periodo in cui ti paragoni sempre a quello che fanno gli altri agli altri soprattutto agli ultimi dieci anni con l'interversale di social network alla fine vedi sempre appunto l'immagine che gli altri danno di sé e quindi tu pensi che in qualche modo la tua immagine possa assomigliare a quella degli altri tu debba prendere ispirazione da quelli che sono sempre più bravi più belli più fighi di te e alla fine però tu rimani con te stesso quindi per questo poi in domanda si parla appunto di sonno di riposo cioè tu rimuginando riflettendo sui tuoi errori del passato alla fine stai perdendo altro tempo è in questo secondo me che facciamo riferimento a quelle storture cioè il fatto che comunque tendenzialmente non sia oggettivamente giusto paragonarsi agli altri si può prendere esempio puoi ammirare le altre persone però spesso diventa patologico quindi dici prima ci perdi tempo a guardare quello che gli altri decidono di mostrarti perché alla fine vedi quello nei social poi perdi tempo a rimuginare perché tu non sei così è doppia perdita e poi bisogna ridormire perché non ce la fai più esatto esattamente quindi ti porti gli anni di riposo e questo album dove si può ascoltare? allora abbiamo è distribuito su tutti quanti canali di streaming quindi lo puoi semplicemente ascoltare su spotify lo puoi ascoltare su title è disponibile poi anche su bankamp ed è disponibile anche in vinile abbiamo fatto una produzione in vinile e in radio cassetta in vinile è stato prodotto da non ti seguo records per l'italia e da tre etichette straniere che sono dancing rabbit per la germania engineer record per l'inghilterra e firefly fall per la stranza mentre c'è una produzione che abbiamo fatto limitatissima sono tipo 40 copie 50 copie per controllare il dato preciso in radio cassetta che è stata una delle ultime produzioni di un brutto posto neanche annunciato ufficialmente se non oggi quindi però comunque siamo molto orgogliosi di questa cosa anche perché io e Pietro siamo da tempo legati al formato vinile anche gli EP del nostro vecchio gruppo Ivasa sono usciti entrambi in vinile decisione economicamente disastrosa ma che col tempo poi ci ha dato effettivamente una serie di oggetti un certo numero di oggetti che ancora ci ricordano che rappresentano quella fase lì insomma e invece l'audio cassetta cos'è un fetico un bellissimo feticcio è un galle un bellissimo feticcio no allora io sono un grande appassionato del ritorno all'audio cassetta negli ultimi anni perché mi piacciono tantissimo gli oggetti allora io sono un collezionista di vinili da tantissimi anni ho un quantitivo di vinili a casa fuori da ogni grazia di Dio proprio che adesso vedevo spostare un mobile che è quel Callas mi viene da piangere proprio vedevo spostarlo di qualche metro molto impiegativo da qualche anno ho ricominciato a collezionare le due cassette ma proprio a caso per una band era uscita una band che stavo seguendo era uscita solo le due cassette da lì ho cominciato ed è un bellissimo oggetto inascoltabile con una qualità bassissima a livello a livello di ascolto che se le ascolti più di tre volte già fanno più poi le devi riavvolgere con la Bic esatto poi se il tuo lettore non funziona benissimo lei distrutte quindi mi strappa via e può non funzionare benissimo considerando che mediamente avrà più di vent'anni esatto ma anche più di vent'anni io ero di mio padre quindi avrà almeno 30 di anni se non 35 perché sicuramente più vecchio di me quindi più di 30 anni ce l'assicuri e e quindi questo si chiama proprio a livello però dai una possibilità di vedere la parte artistica del progetto in un modo un pochettino diverso cioè tutta la parte intorno del disco che noi abbiamo voluto fare come copertina abbiamo voluto fare questa questa fotografia che ha fatto Luca che è stato l'iterrista di Svezia l'anno scorso Norvegia Norvegia Svezia e Norvegia Svezia e Norvegia perché parte della Svezia pisce Norvegia tutto quanto in set ma principalmente in Norvegia tra l'altro che di questo che ha fatto questo viaggio in treno in mezzo alla neve in Norvegia e Svezia che è bellissimo abbiamo voluto rappresentare l'interno e avere la tape c'è la possibilità di utilizzare una foto che non avremmo mai potuto utilizzare per il disco mai potuto utilizzarla per un'altra cosa che era bellissima cioè perché è venuto fuori molto bene questa scala che dà verso nulla proprio quindi concettualmente abbiamo avuto la possibilità di utilizzare anche altre parti di questa fotografia che rappresenta molto la solitudine all'interno del viaggio dell'immagine posso dirlo per i nostri ascoltatori che non ci vedono che sembra un po' la casa del film La Casa innevata e tolti gli alberi tantissimo ci ho pensato anch'io tantissimo un paio di scuola in un certo senso però disclaimer questa cosa come quando mi sono stampato il vinile è esattamente quello però disclaimer in realtà noi siamo molto più puri in questo e abbiamo pensato che la casa si imboleggiasse invece no la vicinanza il calore umano queste cose qua che senza l'un po' effettivamente ti sostengono all'interno di questo mondo che spesso puoi vedere come una distesa inerata quando senti il gelo al di fuori comunque è importante avere uno spazio in cui ti senti al sicuro che sia uno spazio fisico o no però insomma se sei un po' maligno puoi vederci anche la casa questa idea di partire anche senza il basso è un po' no non lo so la trovo un po' complicata cioè come avete fatto partire così come vi siete organizzati ecco più che altro allora quindi è stata divertentissima noi eravamo tra di noi in casa adesso suono il basso all'interno del progetto perché dal vivo serve una spinta un pochettino in più per avere quel muro di suono che vogliamo avere e quindi abbiamo introdotto il basso io sono col mio progetto che si chiama rosa polvere mi occupo di compongo droni e altri progetti e altri diciamo generi più elettronici però secondo me tu componi droni ti utilizzi i mezzi ad esempio Cubase Ableton intendi questo no io faccio tutto tutto di elettronica non uso quasi mai capiunature a livello digitale quasi sempre unicamente analogico io ho o sintetizzatore modulare o mi occupo di sintetizzatori modulari o semplicemente sintetizzatori digitali ma ho stand alone io gran parte il mio pezzo preferito è un Digitone sono nominato Andrea perché gli ho dato un po' troppa vita come con disetico e lo passavo come si chiama e quello lì a base di sequenza gli davo tutta quanta la parte di suono su cui sono in tutti quanti i brani dei style sia quando non c'è il basso a cui giungevo anche una percussiva a livello caratteristico sulle basse che adesso è stata leggermente compressa all'interno del suono in suonità un pochettino più di ambiente che è la parte diciamo più la parte ambientale più la parte di suonarità che danno diciamo tutta quella ciccia intorno ad alcuni a gran parte dei brani di self quindi a un certo punto di dire proviamo a fare le sue insieme proviamo a campionare le sue insieme abbiamo dovuto trovare un modo per dare il click che era un po' complesso dove stavamo suonavano i tempi perché sennò non andava niente ascoltabile e da lì siamo cominciati abbiamo analizzato tutto quanto abbiamo voluto proprio realizzare i suoni di basse in questo modo qua poi dal vivo comunque l'introduzione di un basso è sempre più necessaria col tempo perché da vivo si trovava un po' vuoto ma la scelta iniziale è stata proprio questa eravamo noi tre io non avevo molta voglia di trovare il basso non scherziamo non scherziamo in realtà non avevo la voglia di trovare anche il basso senti siamo ormai al terzo parallelo con gli stugi sei un chitarrista che si sposta al basso cosa si nasconde nel suo flore attenzione ragazzi io direi io sono cresciuto a pane e ghip hop è stata la mia crescita quando ero giovane quindi non posso dire niente ma queste sono tutte cose casuali però voglio essere sincero però sono divertenti quindi visto che Filippo è scappato io vorrei chiederti se poi gli altri non hanno domande un'ultima cosa cosa fate adesso per promuovere quest'anno appena uscito avete dei tour dei concerti allora adesso noi abbiamo un paio di concerti ancora è stato già annunciato qualcosa non ancora abbiamo fatto il release del disco settimana scorsa abbiamo suonato al CIC dopo vari giri con Schelt e Gara 2 adesso faremo un tour a fine ottobre insieme a Winter Dust che sono una band di Padova che fanno post rock bellissimo bellissimo progetto e abbiamo un paio di dati che dovrebbero essere dovranno essere 4 giornate adesso non mi ricordo quanto sono chiude sono chiude su quanto è preciso non posso dire adesso solo che la prima sarà in Lombardia poi le altre saranno Bologna dovrebbe essere Siena e dovrebbe esserci una Napoli Padova non posso confermare perché non è quella parte in cui mi occupo io specificamente in più abbiamo una data a Bergamo il 20 ottobre dove le troveranno sui vostri social network tutto quanto è disponibile sul nostro social su Instagram e faremo dei post a riguardo comunque ogni volta abbiamo l'annuncio preciso di ogni data che stanno uscendo vi ricordo viste le difficoltà che ho avuto prima io a trovarli che bisogna ricercare Cellfloor music esatto Cellfloor music non basta Cellfloor no vedai mi è saltato fuori subito con Cellfloor benissimo benissimo allora io a questo punto ringrazio Raffo e Daniele soprattutto per il suo esodo alla regia ma soprattutto ringraziamo i Cellfloor per averci dedicato questa mezz'oretta del loro tempo nonostante insomma Filippo sia scappato ringrazio Filippo ringrazio Pietro ma ringrazio anche chi dei Cellfloor non ha potuto partecipare grazie ancora e rimanete sintonizzati anche sul canale di RadioNowhere.it perché abbiamo ripreso con la programmazione sulla nostra radio abbiamo ripreso la programmazione anche sul nostro canale YouTube e anche noi abbiamo le nostre novità detto questo non mi resta che ringraziarvi ancora ciao a tutti grazie mille per lo spazio grazie mille per lo spazio grazie mille per lo spazio